Dante, Luciano, come procede il primo giorno? Bell'abbronciato! Stiamo lavorando mister! Le piace Juan Jesus? Allora, buongiorno a tutti! Buongiorno Luciano! Tutto sta procedendo, i ragazzi stanno lavorando bene. È chiaro che i nostri cavalli dovranno tenere un occhio sul mossiere perché poi appena si abbassa il canate dobbiamo partire forte, ma sono convinto che si faranno stare qui. Ha già visto Gerson? Grazie mister! Grazie mister!